La scuola dove sta andando anche alla luce del nuovo governo? Per ora c'è una grande preoccupazione perché nei 100 giorni che ha annunziato il Presidente del Consiglio Letta non c'è niente sulla scuola, mentre in campagna elettorale abbiamo sentito a più riprese tutto sulla scuola, bisogna investire e noi siamo naturalmente dell'opinione che bisogna investire. Non si può considerare la scuola un costo ma un investimento perché attraverso la scuola si creerebbe la crescita e si creerebbe anche pari opportunità per i giovani che hanno il diritto, o che il dovere, ma hanno il diritto di poter raggiungere dei risultati nella società apprezzabile. Quindi una grande delusione perché nei primi 100 giorni non c'è questo. Certo, noi siamo già andati nelle richieste, quelle più importanti. Vogliamo realizzare una scuola per la nostra bella Italia che sia senza precari, quindi una stabilità del personale che è un punto importante e fermo ed è un grosso punto. Vogliamo un organico di istituto pluriennale, vogliamo l'immissione in ruolo del personale docente e non docente per creare stabilità, perché non è pensabile che ci sia entusiasmo da parte di chi, assunto oggi, domani viene licenziato. Quindi è un fatto che fa bene alla scuola, fa bene ai precari e fa bene agli alunni e agli studenti. E adesso da Pescara un punto di partenza, un nuovo punto di riferimento, una sede che possa anche, diciamo, essere un punto di aggregazione importante. Pescara è una città dove vede una grossa presenza dello Snaz. Lo Snaz è radicato, è apprezzato, è conosciuto. Ora in una sede ancora più prestigiosa, più capiente, più bella, sicuramente accrescerà questa immagine e questa apertura verso l'esterno, dove troveranno gli iscritti e non iscritti, oltre la sede del sindacato, anche una serie di servizi importanti che la società e quindi gli iscritti hanno bisogno e quindi possono soffrire con più comodità in una sede più grande. Puesse dare un messaggio di positività a chi opera adesso nella scuola dove si potrebbe partire? Ma dunque, detto, il punto più importante è il discorso di rendere stabili i posti di lavoro. Questo è importante. Però, alla base di tutto questo, c'è un impegno del sindacato forte che chiede un maggiore riconoscimento alla funzione docente attraverso una scuola dove esprime una serietà degli studi, un impegno maggiore, naturalmente, degli studenti. Non certo una selezione, ma certamente un voler chiedere, offrire di più e chiedere e ottenere dagli studenti per una maggiore preparazione. Perché è solo attraverso la scuola e attraverso questi docenti si può veramente realizzare quella mobilità sociale e quella creazione di cervelli che servono alla società per lo sviluppo del Paese. Paola Nardecchia, segretaria provinciale SNALS, una sede nuova, anche un punto di partenza come aggregazione? Sì, allora sicuramente questa sede va vista nell'ottica di un cambiamento, di un miglioramento di quella che è l'attività del sindacato, in particolare dello SNALS, all'interno della città di Pescara. Purtroppo negli ultimi anni il sindacato ha risentito di una crisi, è stato visto dal personale educativo e data non più come nel passato, per cui alla nostra attività politica si affianca sicuramente un'attività di ampliamento di quelli che sono i servizi che possiamo offrire al personale che opera nella nostra provincia. All'interno di questa sede, infatti, oltre ad essere ospitata la segreteria provinciale dello SNALS, c'è la sede della segreteria regionale dello SNALS, il cui rappresentante è il professor Frascari, ma anche la sede provinciale e regionale della COMSAL. I servizi che noi offriamo sono quelli di consulenza nei confronti del personale, ma anche l'attività di CAF, di centro di assistenza fiscale, e di una serie di agevolazioni riconosciute agli iscritti. È un piacere accogliere il personale iscritto e non iscritto all'interno della nostra sede e offrire la nostra competenza. Al momento, per quel che riguarda Pescara, qualche cifra, quanti sono quelli che possono usufruire di questi servizi e quello che potrete fare? Allora, noi all'interno della provincia di Pescara possiamo adesso annoverare all'interno dello SNALS più di 850 iscritti tra personale docente, educativo e data, sia assunto a tempo indeterminato, sia assunto a tempo indeterminato, sia pensionato. L'obiettivo è sicuramente quello di crescere offrendo competenza nella consulenza e un supporto anche morale alle persone che vengono qui nella nostra sede. Segretario regionale SNALS qui con un appuntamento che comunque è importante per l'organizzazione del sindacato ma anche per gli iscritti che vi seguono. Certamente è stato per noi un piacere poter offrire agli iscritti della provincia di Pescara ma in questo caso estendendo anche nel mio ruolo di segretario regionale anche all'intera regione questa nuova sede. Io sono convinto che le sedi sono la vita del sindacato cioè attraverso la sede il sindacato vive e si appalisa all'esterno e quando riceviamo complimenti e apprezzamenti per quello che è stato fatto è perché vorremmo che il sindacato penetrasse maggiormente all'interno della vita dei lavoratori in una regione che mi lasci dire ha sofferto anche parecchio in questi ultimi anni insomma sta ancora soffrendo per le note vicende del terremoto e che si sta risollevando da un problema molto complesso. A proposito della regione, qual è la situazione al momento per quello che riguarda gli iscritti ma anche per quello che riguarda i rapporti e le potenzialità con quelli che sono i rapporti con la regione? Sì, allora intanto noi abbiamo oltre 3.000 iscritti nella nostra regione, sono le quattro province però bisogna considerare che non è tanto il numero quanto la penetrazione a livello di percentuali il segretario generale mi insegna che il dato fondamentale è questo e quindi siamo uno dei primi sindacati della scuola. Questo però ci dà responsabilità oltre che soddisfazione e devo dire che a livello regionale diamo tutto il nostro contributo perché c'è anche una situazione nella scuola regionale come quella nazionale che descriveva prima il segretario generale di sofferenza. Intanto per la decurtazione diciamo che ci sono stati degli organici negli ultimi anni abbiamo perso oltre il 20% e c'è anche il problema della dislocazione, dell'ubicazione delle sedi scolastiche nella nostra regione che non è molto diciamo favorevole allo sviluppo perché ci sono sedi troppo grandi in posti diciamo che dovrebbero essere invece più semplici da gestire e qui nella provincia dell'Aquila voglio spendere una parola in questo momento di pensiero perché ci sono molte scuole che lavorano ancora dentro i moduli provvisori e la sofferenza lì è notevole. Faremo di tutto dando il nostro contributo come sindacato regionale per risolvere questo problema che riteniamo prioritario. All'orizzonte per quel che riguarda la regione Abruzzo e quelli che hanno speranza di poter avere un posto di lavoro come diceva prima il segretario nazionale com'è la situazione, se ci saranno possibilità di accedere e quale sarà il ruolo dello Stanze in questa direzione? Il precariato intanto è la spina nel fianco che non è solo nella nostra regione ma è italiana Certamente negli ultimi tempi purtroppo le emissioni in ruolo cioè per stabilizzazione per le cararie sono state poche perché non è che abbiamo una grande regione e fra l'altro purtroppo nell'ultimo anno abbiamo registrato anche una lieve diminuzione degli studenti a livello proprio complessivo dell'intera regione quindi questo sta provocando anche qualche sofferenza. Noi pensiamo a questo perché riteniamo che senza un ricambio generazionale all'interno delle istituzioni scolastiche sarà difficile migliorare la scuola perché il problema è se una persona a 40 anni sta ancora facendo 9 mesi sì e 3 mesi no perché diventa disoccupato poi rientra, poi ritorna questo è un discorso che non è più possibile tanto più in una regione che ha anche altre sofferenze occupazionali riesce meglio di me in altri settori e noi abbiamo una crisi complessivamente grave se ci mettiamo anche questa allora lei capisce che la scuola deve dare invece un contributo positivo speriamo, cercheremo, ripeto, per quanto riguarda le nostre forze sindacali insomma come sindacato rappresentativo, autonomo, il più grande d'Abruzzo di dare una mano perché fondamentalmente vorremmo stabilizzare maggiormente il personale questo è un punto di partenza prossimo appuntamento e poi chiudiamo prossimo appuntamento per quel che riguarda appunto il sindacato diciamo così più numeroso della scuola allora noi adesso stiamo lavorando con l'ufficio scolastico regionale cioè con la direzione generale regionale per definire la pianta organica ecco su questo punto diciamo cercheremo di spendere il più possibile per ottenere posti di lavoro soprattutto nel settore che è diciamo quello più carente in questo momento più complesso che quello del sostegno cioè per i bambini, per i ragazzi che hanno problemi in questo senso e il secondo problema che stavo dicendo è una lotta però qui in questo caso attraverso la parte politica di risolvere il problema dell'edilizia scolastica perché noi non ci dobbiamo dimenticare che in Italia e in Abruzzo lo stesso abbiamo oltre il 50% delle scuole che non sono agibili dal punto di vista strutturale non offrono cioè la sicurezza necessaria per poter fare insomma le cose tutti i giorni in Abruzzo in modo particolare questo problema è ancora più sentito su questo ci vogliamo spendere molto